da live al royal albert hall di bethart abbiamo ascoltato bang bang boom boom scelta di massimo carlotto che al telefono con noi benvenuto su radio elettrica grazie grazie a te per la scelta tra l'altro stavamo cantando tutti noi siamo grandi fan di bethart l'altro io posso freggiarmi di essere forse l'unica italiana che l'ha vista quattro volte ma che bello in italia in italia e beh quelle uniche quattro volte che è venuta e io l'ho viste tutte si era invidia tu non l'hai mai vista non ti è mai capito dal vivo no mamma ragazzi lei dal vivo è una roba proprio che ti io piango sempre ho pianto tutte le volte che sono la prossima volta adesso quando tornerà ti chiamerò sicuramente massimo carlotto che è con noi come vi abbiamo anticipato per parlare di questa nuova avventura di cui in realtà noi stiamo già parlando da un po nel senso che l'aspettavamo da un po e penso non solo noi la serie televisiva tratta da l'alligatore appunto da da alcuni dei romanzi dell'alligatore che stasera debutta su rai play e poi dal 25 novembre sarà su rai due credo sia già disponibile non so quando è il deadline dalla mezzanotte quindi c'era c'è c'è già io ho lettori che mi hanno che alle 001 erano già collegati pensa abbiamo al telefono un caso simile a harry potter sì esatto il nuovo no no c'è poco da ridere massimo però effettivamente la c'è grandissima attenzione per il tuo lavoro per i tuoi tanti racconti e questa seconda ennesima trasposizione è molto molto attesa dico seconda perché innanzitutto massimo carlotto non è nuovo alla audiovisivo e riuso questo questo termine un po desueto e settoriale perché tra l'altro tu parli e racconti bene sia dalla pagina scritta sia dal romanzo sia dalla forma film sia dalla forma serie televisiva ma anche la forma fumetto come è stata questa trasposizione soprattutto questo alligatore che creatura è su rai play e sulla rai allora devo dire che l'alligatore è ma come tutti gli altri personaggi sono molto fedeli allo spirito dei romanzi sono molto molto fedeli e gli attori hanno proprio lavorato in questa direzione mirabilmente guidati da vicari e scarigi perché era esattamente questo il progetto mentre sui casi di puntata l'attenzione è stata diversa proprio rispetto ai personaggi e agli ervieti è stata veramente c'è stata una cura incredibile e quindi in realtà è molto più fedele ai romanzi di quanto ci si poteva aspettare da questo punto di vista meno giustamente sulla sulla struttura di puntata sui casi il giallo è a meno passaggi ma questo non è la cosa importante della serie certo perché poi ovviamente il il formato televisivo non è non è il libro e quindi diciamo che non si mua neanche troppo forse indugiare in passaggi di trama più complessi correggimi se sbaglio quando quando poi si si traspone esattamente su questo sono molto d'accordo però ehm qui eh non abbiamo voluto giocare eh su su un inseguimento televisivo dei romanzi è stata molto diversa l'operazione infatti io sono molto curioso di vedere come la prenderanno i lettori che sono preoccupatissimi preoccupatissimi per come saranno i personaggi perché sai l'immaginario del lettore è una cosa molto seria e complessa quando poi passi da romanzo alla trasposizione c'è sempre questo rischio invece eh qua secondo me l'operazione è molto diversa nel senso che mh eh da un lato tradisce il giallo dall'altro invece è molto forte su sull'ambiente anche sulla musica per esempio il blues è veramente presente io non ho mai visto una serie con così tanto blues come l'alligatore beh perché in fondo ehm quello che caratterizza un po ehm i tuoi romanzi sull'alligatore è proprio questo cioè non è tanto la trama eh che per carità è una trama forte di noir però non è tanto quello quanto l'atmosfera che si crea attorno e il personaggio la serialità anche diciamo letteraria a questo a questo diciamo pro che a volte anche un contro cioè l'affezione totale che poi il lettore ha per il personaggio eh che diventa appunto una una specie di di riferimento e per questo tu dicevi sono curioso di eh di sapere poi che cosa ne pensano i lettori eh tu hai già avuto qualche piccolo feedback? sì tutti molto positivi ottimo e non era facile eh e nottambuli e non era fatto facile però un po' me l'aspettavo perché devo dire che Martari che interpreta navigatore è veramente bravo è entrato con i personaggi come anche gli altri che interpretano sì ma devo dire che devo dire che guardando io ho visto però solo i trailer eh però mi ha fatto impressione ehm la la l'utilizzo della cadenza così forte eh che non è una cadenza eh diciamo eh perché non almeno a me non capita spesso di sentire ehm appunto il il veneto eh in una esatto in televisione cioè non so a me ha fatto effetto perché innanzitutto conosco te quindi un po' mi ehm mi veniva facile collegare le due cose cioè sentivo te che è lui che parlava ma nella testa sentivo anche te e poi eh avevo in testa proprio il il personaggio come me l'ero immaginato e mi fa strano perché appunto essendo romana non ho mh non sono abituata a sentire spesso questa questo tipo di cadenza e è è stato un segno di autenticità insomma forte non solo ma anche riflette eh il territorio esatto che poi noi veneti passiamo parliamo così parliamo così cioè ed è non e questa sarebbe stata un'operazione sbagliata non farlo cioè e quindi era importante che emergesse il territorio e a proposito il territorio qui emerge un veneto molto diverso che non è quello da cartolina ma è tutt'altro sono proprio le le paludi fangose del dove sguazza navigatore tra l'altro un veneto insomma di cui negli ultimi anni stiamo sentendo sempre più parlare per varie eh diciamo motivazioni eh anche contrastate e contrastanti anche durante questa pandemia insomma il veneto è stata una delle regioni di cui si è parlato di più per alterne vicende ma anche prima anche prima sì sicuramente ecco tu hai hai interpretato da sempre una eh visione insomma edulcorata del del veneto della provincia veneta eh che però è vero che non si conosce tanto cioè perché noi pensiamo al veneto pensiamo a venezia cioè non non abbiamo secondo me tanto il polso come succede per molte regioni italiane perché insomma l'Italia è talmente varia esatto per la provincia e qui c'è uno sguardo diverso c'è uno sguardo diverso con sempre una grande attenzione alla alla realtà per esempio dalla prima puntata se si parla di di questa vicenda di cappannoni dove vengono stoccati rifiuti eh illegali e incredibilmente negli ultimi 20 giorni è stata una notizia che ha girato il più in vento perché è stato scoperto un giro di cappannoni dove venivano stoccati appunto rifiuti nocivi che arrivavano da altre regioni quindi c'è un grande sguardo sulla realtà mostrando un veneto inedito per chi non lo conosce fatto di canali fatto di barene eh fatto di campagna anche di case di campagna che di solito non vengono mai mostrate vorrei restare momentaneamente tangenzialmente sul su quanto parlano i luoghi dei dei tuoi romanzi nei tuoi personaggi e ti chiedo eh com'è stato il lavoro il contatto con eh lo showrunner il regista eh vicari ma anche con la scaringi che eh vicari so sicuramente che è nato nel Lazio ma anche nel con gli autori gli attori che un due eh eh Trabacchi è nato a Milano Gobbi è nato a Milano mentre il protagonista Matteo Martari è di Verona quindi è il più vicino eh ok se c'è stato un lavoro anche di guida oppure hai dato delle indicazioni all'inizio oppure hanno fatto tutto loro anzi hanno lavorato eh i tuoi romanzi per te come hanno assimilato questa umidità della palude questa questa questo Veneto questo questo mondo questo luogo che poi è è dentro tante tanto racconto che mi un po' anche nell'ambientazione mi ha ricordato un po' True Detective la prima stagione facendo un un movimento piuttosto rigido tra una serie e l'altra come è stato portarli nel tuo mondo? non l'ho fatto io nel senso che io sono stato lontano da da questo aspetto io ho lavorato sui scienze e le sceneggiature e sono andato a vedere qualche ripresa giusto come come curioso eh a parte il cameo giustamente spoiler c'è un cameo sì del sottoscritto spoiler sì e devo dire che è stato vicari vicari e scaringi scaringi l'ho conosciuto è stato una delle prime persone che ho conosciuto che ha lavorato moltissimo per la per questa serie vicari è arrivato dopo ma con una grandissima autorevolezza e tutto il lavoro rispetto ai agli attori è stato un lavoro lungo addirittura hanno affittato un teatro per poter leggere i copioni hanno fatto un grossissimo lavoro molto lungo e da questo lavoro è sono usciti i personaggi eh Martari per esempio ha recuperato una sua dimensione veneta che lui stesso dice che un po' aveva perso l'ha recuperata l'ha ricostruita eh Trabacchi ha fatto un lavoro straordinario perché veramente assomiglia al vero Beniamino Rossini cioè a quel modo di fare malavitoso che è il malavitoso di un tempo che io non ho visto raramente al cinema o in televisione che poi la vera essenza di un personaggio lo sa soltanto chi lo scrive sì sì diciamo che i suoi sono molto molto caratteristico cioè escono molto dalla pagina i personaggi di Massimo quindi diciamo che se si riesce a cogliere il problema è poi rifarlo che posso capire insomma deve essere stato molto complicato allora bene siamo contenti che tu sia soddisfatto non vediamo l'ora di vederlo eh anche noi vi ricordo stasera cioè da oggi anzi da mezzanotte su Rai Play e poi anche il 25 dal 25 novembre su Rai 2 domanda che ti devo fare necessariamente ma alla quale puoi anche non rispondere cosa stai facendo cosa stai scrivendo se si può dire beh sto lavorando al prossimo romanzo che uscirà ad aprire ah ok va bene vaghissimo grazie esattamente la verità la verità la verità con vaghezza per completezza abbiamo citato tutti gli uomini del nei protagonisti principali c'è anche la una forte componente femminile Eleonora Giovanardi e Valeria Solarino sono due punti fondamentali della storia dell'alligatore e meglio i loro personaggi quindi andremo a vedere da adesso in poi ehm grazie per queste due scelte musicali a questo punto abbiamo sentito Betart e ne abbiamo parlato ma alla prossima sembra un un Lucille di BB King è un pilastro della del blues qual è l'altro citato nel nel primo romanzo dell'alligatore quindi mi sembrava un bello omaggio grazie mille Massimo Massimo Carlotto ciao grazie grazie a voi ciao a presto baby King ciao ciao Lucille